Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurito ragazzi e ragazze ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Corpse Party Adesso bisogna prendere il controllo di Ayumi di Yoshiki Andiamo E siamo qua Magia, un due tre stella Eeeeh Leggiamo un attimo questa notizia Storie d'occultismo, strano ma vero Mi è piaciuto dirlo al contrario Cercando di scoprire il passato nascosto della scuola maledetta Kokibiki, il martellone impazzito che invece del martello usò la banana Parte 3 Eh ci credo, sbattere la tua banana sui muri Una banana che riesce a distruggere i muri? Non si è mai visto, Guinness dei primati Difficilmente riesco a descrivere la sensazione che sento qui dentro Banana con panna incoming Odorocu na kare Watashi wa ima Norovareta manabia Tenjin shongakko Sono kousha no naka ni ilu no da Questi doppi sensi mi Mi distruggeranno un giorno Watashi no yunonaru joshu Dokcha ni mo osoraku nanoshireta Saenoki naho kun Leikai ni seitu shite iru kanojo no shindei chosa ni yuri Akira ka ni natta Io al tuo posto non la ringrazierei così tanto Leikai ni siu La morte è sorpresa Un testimone vivente Direi più non vivente Oculto-sacca-ken, Ryo-Ki-Ziken-Lupel-Writer-No Kibiki-Sensei-mo-本当にここに来ていたんだわ Ia-na-i-i-i-i-kata-dakeredo Naho-san-no-ho-ga-urekko-ni-nate-ita-si Kishikai-se-o-ne-ra-te Tokudane-o-tsukami-ni-ko-ko-ni-kita-no-ne Ano-sinda-sakana-mita-na-me-e-sita-joshi Sishou-nante-i-toruk Ai-you-mi-ma-ro-num-i-kagare-ang-you-sishiki-dal-kulo Eh-che-kakio 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 Grazie. 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 Che vi ho portato alla morte? Tanto. Morire oggi o morire tra 70 anni è la stessa cosa. Più o meno. E' rientrato dal culo. Brutta brutta cosa. Mi sembra che da qui niente. Allora andiamo di qua. Che è questo cadavere? Ah, uno di cui non ce ne frega nulla. Siamo all'ingresso di nuovo della scuola. Gli intrusi verranno espulsi. Questo è molto importante. E' diviso in cinque parti. Bisogna ottenerle tutte cinque per non beccare un wrong end. Mi raccomando. E' questo signo? E' il suo pennello? Non mi aspettavo che lei avesse questi gusti così da ragazzine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Posso farlo, se nemmeno si può aiutare. Naho-san che... ...blogue con il risultato del risultato... ...e la memote... ...postato? Mai avrei messo più pubblicato. Per questo tipo di giorni che vengono... ...canto in soluzione... ...e con gli amici... ...fare amicizia con una stronza? Complimenti! Per questo... ...signoravo... ...clicerò ma? ... ...la ho-san... ...vergo asciulla. ...signorare. Per il momento in cui si chiedeci aciata... ...signorando a il prevenimento... Grazie a tutti La terza parte Eccolo qui Mica debba andare di qua Adesso con l'oro Non mi ricordo molto di preciso Ah ecco Ok che è successo Che è successo Ok sto parlando di una lingua un po' sconosciuta Ah abbiamo Finalmente ripristinato Il percorso per quanto riguarda Yumi Yoshiki Qua ci sta sempre la nostra cara Mayu Diventata ketchup Dalla maionese Ah quella lì Che correva Impazzita Ha fatto una brutta fine purtroppo Mi spiace per lei Doveva morire prima o poi Mettiamola Ma che cacchio di animale Boh E al momento mettiamo quella statua Perché è molto importante Non so se adesso posso avanzare con l'oro O devo per forza switchare con gli altri Eh no Devo switchare per forza Ma che cacchio di scriversi Va Sarò un pazzo Finalmente possiamo passare dall'altra parte Vaffanculo a tutto sto sangue Ciao piccola Sashiki Come va? Entriamo Qui siamo molto ma molto attenti Specialmente a questo Cioè a questa persona che fa un cosplay Di un fantasmino Più o meno Forse quello formaggino E siamo qui perché Abbiamo bisogno del quarto appunto di Nao Poi è bello che abbiamo visto Sashiki Che ci apre pure la porta Fa la portiera Un bel mestile per lei Non è un semplice habitat Per spiriti indifesi Ma chi l'avrebbe mai detto Nao? Un po' più Ma che l'hanno messo un dito nel culo Mentre parlava Eh deve aver fatto male Sashiki Ma che l'hanno messo un po' più Kimiki però cavolo A meno potevi darla la tua banana Infatti poi Nao è impazzita E se l'è presa con violenza Eh E l'avrà anche staccata Che la banana Dalla radice Adesso usciamo E si richiude la porta Comunque questa parte qui È molto ma molto importante Per un wrong end Ma lo vedremo molto molto più avanti Nord o sud Andiamo a nord Non so mi ispira fiducia Ah qua bisogna entrare Con tutte e cinque le parti Del quaderno di Nao Cambiamo un attimo I ruoli E ritorniamo lì con Satoshi, Naomi e Yuka Ecco fatto dai Magica io Morishigemo Ano yosu da Tasukatenai to O mo Tosite yo Minda Cantani Singio A gaite yo Injo Grazie a tutti i nostri spettatori. Un po di più... Yui, io posso provare qui? No? ... 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 Ah, l'ho fatto l'ho fatto! Sorry, l'ho fatto l'accompanione. Ok, ok. Non lo so, non lo so. Grazie, sono molto piaciuto! Sinozaki! Mi è giusto! Mi hai visto molto bene! Alla fine... ... ... E' un terremoto fu che ricostruisce La musichetta è cambiata di nuovo Allora adesso possiamo continuare la nostra avanzata con Loro 3 Infatti, grazie mille terremoto Senza di te sarei perso E' un terremoto buono Riprendiamo il controllo di Ayumi e di Yoshiki Qui c'è l'ultima parte del quaderno di Nao Tutte le pagine sono vuote E intanto squilla il telefono Un... E' un terremoto è morto E' un terremoto E' un terremoto E' un terremoto Ma è ok Eeeh, Nao, come fai a diventare nere? E' giocato con l'inchiostro? E' un terremoto Sempre meglio nere che bianche E' un terremoto E' un terremoto E adesso si va di qua. Ciao! Ah io mi non ti spaventare, è soltanto Maurizio Costanzo. Nanda. Scrapbook. Quindi Maurizio Costanzo caga album di foto su omicidi. Interessante! Sachiko che cosa sta dicendo? Ah, guarda! Anche un'era vecchia di giorni. 1953, nel 19, nel 19, nel 19, nel 60 anni. Anche un'era vecchia di giorni. Shinozaki con la Y Avete letto? Purtroppo adesso ho saltato Ma al massimo tornate indietro col video E vedrete questa Y Cose da pazzi Come puoi Togliere la Y e mettere la Y In Shinozaki? Come puoi Come puoi Infatti adesso ho l'hai Traduzione italiana mi stupisci sempre Non ci voglio credere Shinozaki Shki 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 Mite Onaji shimen ni Mou hitotsu karenren kiji ga noってる Naku natta ho kenyi Yoshie no hitori musume ga Sono hi karo sissou shite iru Te Shashin ga Ah Infatti essa shiko Nanda Mite kore Satsuko Zidou satsugai juken no scrap kiji to Mattaku onaji Nonde koits Koko ni mo irun da yo Dou mitemo Dou itu jinbutsu da yone Kono scrapbook nokosita hitomo Kitto sore ni kizuitanda Honttoni usukimi waru i na Perfetto ragazzi Direi a questo punto di concludere questo episodio Spero che vi sia piaciuto Abbiamo scoperto altre notizie importantissime Fatemi sapere cosa ne pensate Dammi da un commentino Se volete mettete un bel mi piace Alla prossima Ciao ciao